Valentina Rillo, Covid, guerra, incendi, emergenza idrica, progetti, tante le cose che vi hanno tenuto interessati durante l'anno che sta andando a terminare e a cui il 2022 è davvero impegnativo per la protezione civile. Sicuramente abbiamo quasi terminato col Covid, subito l'emergenza guerra e accoglienza agli ucraini, come le diceva, siccità in città, l'avete visto anche in tutto il territorio nazionale, incendi boschivi che hanno lambito la città e anche ci hanno preoccupato per il lavoro che abbiamo dovuto fare insieme ai Vigili del Fuoco, che ringrazio tantissimo, in cui collaboriamo giornalmente e anche le altre forze dell'ordine. Progetti e brevetti da parte dei volontari che giornalmente anche nei momenti tranquilli e di pace si stanno addestrando, si formano per essere pronti per arrivare preparati sugli interventi. Devo dire anche che quest'anno ci ha portato fuori territorio nel Comune di Senigallia per l'alluvione che c'è stato e quindi alcune squadre hanno portato il contributo grazie al Dipartimento Nazionale di Città Vecchia a quei territori. 18 il concorso, un concorso nazionale, un bando per accedere al Servizio Civile Universale con il progetto Procivita che è riservato a sei posti per i ragazzi da 18 ai 29 anni non compiuti ancora, con bassa scolarizzazione e anche con diploma o laurea. Questo è importante per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, in questo caso per il Servizio Civile Universale perché andranno a lavorare sotto la dipendenza del Ministero delle Politiche Giovanili. Devo ringraziare la dottoressa Pizza che si impegna ogni anno affinché questo concorso e questo progetto nostro, procivita proprio si chiama, venga accolto e presentato. Questo è importante. L'amministrazione ci credono, l'amministrazione di Città Vecchia con il sindaco tedesco ci crede, con Cinzia Napoli che è l'assessore alle politiche giovanili ci ha creduto fortemente e abbiamo portato avanti questo impegno. Un'altra cosa, abbiamo detto che nei primi mesi del 2023 apriremo l'arruolamento di altri volontari, volontari dai 18 e molto probabilmente apriremo anche ai ragazzi dei 14 anni in poi per arrivare a una nuova generazione e un cambio generazionale nelle forze del volontariato di protezione civile che ormai è un volontariato di professionalità.